buona giornata siamo all'inizio in questi giorni del nuovo del nuovo anno e continua l'esperienza e anche il vissuto di questa pandemia questa pandemia lo abbiamo notato e abbiamo visto come amplificato certi processi ha accelerato certi modi di pensare certi modi di fare certo le ha anche per certi versi ridotti a lumicino certe speranze non sperdiamo la speranza non perdiamo la speranza che le cose possono cambiare non perdiamo la speranza che nel modo con cui oggi costruisco domani mi ritrovo le cose più e meglio fatte ogni giorno c'è bisogno di mettere ognuno di noi un proprio mattone mettere ognuno di noi un proprio impegno una propria volontà allora sì che costruiremo allora sì che la speranza che le cose possono cambiare si alimenta che questo atteggiamento possa essere di questo momento ma anche di questo anno che stiamo vivendo nella novità di questi giorni il signore ti illumina e ti benedica buona giornata